Territorio, borghi, vivibilità e talento e anche soprattutto locale, perché ci sono tanti nativi con orizzonti cosmopoliti. Arripattoni in arte sono affascinati soprattutto dalle persone e dalle storie. Hanno inseguito la suggestione di chi oltre l'opera avesse qualcosa da raccontare, storie che disvelano processi creativi elaborati da persone, dall'indubbio talento e che hanno lavorato con la pazienza e la tenacia dell'artigianato per conservare il proprio spirito originale e il selfish nella lotta quotidiana del fare arte. E' questo l'inizio della non edizione di Ripattoni in arte 2014. Diciamo che Ripattoni in arte è una manifestazione nata, come diceva lei, nove anni fa, da un seme messo a dimora dall'associazione Bellantarte, che è un'associazione di artisti locali, pittori, scultori, che nel corso degli anni si è consolidata, è anche diventata una scuola di pittura per bambini e quindi ha maturato una crescente presenza sul territorio e dall'anno scorso abbiamo provato a fare una scommessa che è quella di aprire questa manifestazione anche ad espressioni artistiche diverse e cercare di attirare a Ripattoni, di portare a Ripattoni degli artisti di valore internazionale. Intanto il lavoro che noi facciamo, che io porto avanti, tende a questa commistione tra territorio e talento. Lo esprimiamo anche nel logotipo dell'iniziativa perché riteniamo che questa è l'impronta che presumo, spero, rimarrà sempre nel tempo. Ripattoni in arte 2014 si presenta come un vero e proprio borgo in movimento. Tanti gli appuntamenti e molte le storie, nucleo centrale il Palazzo Saliceti, la sua vocazione al luogo della cultura, a disposizione della comunità con un nucleo centrale di mostre dove esporranno Maurizio di Iorio, Carmine di Giandomenico e Luca di Sabatino. Uno stile decisamente contemporaneo e attratto dal profondamente banale, dagli oggetti qualsiasi di uso comune, quotidiano, ma rappresentati in un modo totalmente nuovo. Con questa mostra ha voluto rappresentare il fatto che mostra, ripeto, tra virgolette più che altro un'esposizione, che il mondo del fantastico è fantastico in tutte le sue peculiarità, quindi anche attraverso l'originale che si crea oggi, che è fittizio, che in realtà non sono altro che pixel che ricreano il tocco umano, quando in realtà il tocco umano è sempre più raro poterlo incontrare. E quindi la scelta proprio del supereroe è stata fatta appunto perché c'è questa doppia faccia, nel senso il supereroe che finge di essere una persona normale, ma in realtà è qualcos'altro che un messaggio, e quindi anche la realizzazione di una tavola a fumetti in digitale è qualcosa di diverso.